Avrebbero promesso posti di lavoro all'Università d'Annunzio in cambio di denaro, millantando conoscenze con elementi di spicco dell'Ateneo. Cinque persone sono state arrestate dai carabinieri di Chieti con le accuse di truffa, millantato credito, sostituzione di persona e falso iscrittura privata. Ai domiciliari, su ordinanza del GIP del Tribunale di Chieti Paolo Di Geronimo, sono finiti Patrizia Marino, 45 anni, impiegata della ASL di Ortona, Pamela Magno, 32, disoccupata e figlia della Marino, Marco Marino, 55, disoccupato di Ortona e fratello di Patrizia, Luciano Diodoardo, 69, di Ortona, dirigente dell'Arta di Pescara e Maria Concetta Vadini, 56 anni, disoccupata di Ortona. Due le persone denunciate per gli stessi reati, LCD, 59 anni, dipendente della ASL di Chieti e CCDR, 35, disoccupato. L'inchiesta è coordinata dal PM di Chieti, Giuseppe Falasca. Le indagini sono scattate due mesi fa, ma i fatti sarebbero andati avanti per un paio di anni. I posti di lavoro promessi erano prevalentemente nel dottorato di ricerca e negli incarichi amministrativi in seno alla dirigenza, in modo da poter ricorrere a contratti fiduciari. Vittime del meccanismo erano i genitori di giovani neolaureati alla ricerca di un posto. Una coppia avrebbe pagato 25.000 euro per i due figli. Il giro di denaro accertato è di circa 80.000 euro. Normalmente la prima richiesta di denaro alle vittime si aggirava intorno ai 3.000 euro. L'Ateneo è risultato totalmente estraneo alla vicenda. Secondo gli investigatori, il probabile ideatore del sistema è Dio Doardo, che utilizzava la propria autorevolezza per dare spessore alle promesse, mentre la Marino aveva il compito di procacciare le vittime. Durante l'operazione, ribattezzata Ghost Work perché i posti non sono stati mai dati realmente, sono stati anche sequestrati falsi contratti di lavoro e false ricevute di pagamento delle tasse, oltre a tesserini di riconoscimento dell'università che erano stati contraffatti. Vittime di determinate tipologie di reato, quale può essere appunto la truffa, non intendono portare a conoscenza le forze dell'ordine di quanto subito, un po' per la convinzione di essere coinvolti nel reato per la loro buona fede. E quindi sentirsi carpiti nella buona fede spesso può invogliare a voler tacere quello che è stato il reato subito. Questo assolutamente non deve avvenire, è per un duplice ordine di motivi. Primo perché così si resta vittima di un reato che potrebbe rimanere impunito, e questo non è giusto che accada. Secondo perché la stessa tipologia di reato può colpire altre persone, perché nel momento in cui non si agisce sanzionando, come giusto che sia, chi compie determinate tipologie di reato, ovviamente la cosa può reiterarsi, con grave pericolo comunque sia per tutta la collettività. In un momento storico come quello attuale, ovviamente, influire sul mercato del lavoro truffaldinamente come è avvenuto, e quindi sottraendo dalle tasche di famiglie che comunque sia, avendo necessità di lavoro per i propri figli, evidentemente non hanno questa grande abbienza, risulta particolarmente odioso e abbietto. Ecco perché sarebbe opportuno che chiunque si riconosca in questa tipologia di reato, o in reati similari che hanno colpito comunque il patrimonio in un momento così delicato, si facciano avanti, denunciando con fiducia alle forze dell'ordine. Le stazioni carabinieri sono sempre aperte per ricevere questo determinato tipo di denunce e chiunque venga troverà ascolto e comprensione. È la massima solerzia nel risolvere la problematica.